La morte della piccola Margarita è sopraggiunta per annegamento e quanto emerso dall'esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese sul corpicino della bimba tedesca di 5 anni che nella tarda mattinata di ieri è precipitata in mare a Palinuro durante un'escursione con la sua famiglia, la piccola secondo una prima ricostruzione, mentre percorreva il sentiero dei fortini con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è allontanata ed ha trovato sul suo cammino lo strapiombo, le lesioni riportate nella caduta però non sarebbero risultate letali in quanto la morte è sopraggiunta per annegamento, la salma dopo l'esame esterno è stata liberata in modo da consentire ai genitori di organizzare il rientro in Germania, Il papà e la mamma sono stati ascoltati dai militari della guardia costiera di Palinuro e dal sostituto procuratore Antonio Pizzi, al momento non risultano esserci indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Vallo della Lucania e si sta lavorando soprattutto per ricostruire la dinamica della tragedia, la famiglia in serata ha voluto far rientro a Salerno dove soggiornava da qualche tempo e da dove ieri mattina era partita per raggiungere il Cilento, in mattinata al porto di Palinuro. Si è tenuto anche un momento di raccoglimento per ricordare la piccola Margarita, durante un raduno motociclistico già in programma da giorni, l'amministrazione comunale e la Proloco hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi.